Abbiamo pensato che il ciclo ideale non era abbastanza, abbiamo cercato altri modi. Una giornata che ha riacceso la speranza, una storia di una ricerca oncologica iniziata con amore. Si tratta dell'incontro dal titolo Siamo stati utili, risultati e prospettive di una scienza che va avanti, svoltosi domenica scorsa presso l'Aula Magna dell'Università di Fano, in cui i protagonisti sono stati la scienza e il cuore. Dopo la sperimentazione in vitro condotta dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università di Urbino, intanto attesi i risultati, frutto di complessi studi e ricerche capaci di riprogrammare le cellule tumorali. La nostra attività di ricerca che si occupa di epigenetica nel cancro ci ha portato a sintetizzare nuove molecole che possono agire a livello epigenetico, cioè correggere le anomalie epigenetiche nel cancro e le normali funzioni fisiologiche. Non abbiamo farmaci, abbiamo molecole che stiamo studiando nella ricerca di base. Ma abbiamo speranze per il futuro di combattere questa malattia? In linea generale sì. La nostra attività non è l'ultima né la prima che si occupa di questo tipo di problematiche. In Italia e al mondo ci sono tanti progetti del genere. Il nostro è una parte di tanti progetti di ricerca che cerca di capire il cancro e anche di definire nuove strategie terapeutiche. Dopo i saluti della Presidente della Fondazione Pirozzi, la giornalista e medico Livia Zariti ha condotto la tavola rotonda con tutti i professionisti presenti, che nel pomeriggio hanno fatto una panoramica sull'andamento della malattia tumorale e sulle prospettive future. Nel 2020 noi abbiamo registrato circa oltre 170.000 decessi per tumore. Il dato più importante è che in realtà i livelli di mortalità per tumore sono in calo in Italia, sono in calo dal 2003. E se confrontiamo questi dati con la media europea negli ultimi dieci anni, vediamo che la diminuzione che abbiamo registrato in Italia è ben più accentuata di quanto si è verificato nella media europea e siamo molto al di sotto di molti paesi europei. Diminuisce sia la mortalità per tumore definita trattabile, sia quella definita prevenibile. Permangono delle differenze territoriali molto ampie, con livelli molto più elevati nel nord rispetto al sud. La diminuzione c'è da dire che è più accentuata per gli uomini rispetto alle donne. Le donne hanno alcuni casi di tumore, mortalità per tumore per polmone in aumento. Negli ultimi anni si sta stabilizzando, ma c'è un trend preoccupante per le donne. Una ricerca e soprattutto una ragione di vita, fortemente voluta e sostenuta con i fondi raccolti grazie all'iniziativa realizzata dalla ONLUS Fondazione Francesca Pirozzi, intitolata La ragazza scomparsa nel 2016 a soli 24 anni per un linfoma. Il tutto è partito dalla tesi di Francesca, che Francesca ha scritto durante il lunghissimo periodo di ricovero, che è durato oltre un anno, e che ha deciso di incentrare sull'alimentazione in chemioterapia, proprio perché si è interessata fin da subito di come l'alimentazione potesse aiutarla sia a sostenersi, sia a contrastare gli effetti collaterali delle terapie piuttosto pesanti che stava facendo. Da questa tesi di Francesca abbiamo avuto il primo libro edito dalla nostra fondazione, che è Il Cibo Ideale. Un altro libro sempre edito dalla Fondazione Pirozzi, che parliamo di cibo. I pixel, che sono tratti dall'immagine di copertina disegnata dall'artista Vito Nucci, immagine che è stata scomposta in tantissimi pixel, ognuno acquistabile al prezzo di un euro, di modo che chi vuole contribuire anche in piccola parte può farlo acquistando semplicemente un pixel.